Ehi, benvenuti in terapia. Allora, batteria da 100 euro contro la Pro. Suona meglio, l'ho sentito dire tante volte. Suona meglio è difficile da digercare. Allora, diciamo che il mercato fino al prosumer sono fusti fatti tutti un po' in serie, magari sì con delle specifiche, arrivando le batterie anche da 1200, 1300, 1500 euro, specifiche date dalla casa, no? Così. Ma è una follia dire che uno strumento entry level possa suonare, già non meglio, possa suonare come uno così, meglio, ma non ci andiamo neanche vicino. Adesso vi spiego perché. Allora, intanto partiamo dalle meccaniche e là devono costare un centesimo. Cioè non c'è nessuna cura. La zama, materiali ancora peggio dentro, che si vanno a fondare, anche se bruciano pezzi di plastica, fondano tutto quello che c'è. Restano dei blocchi d'aria nei blocchetti, via stampi, devono costare un centesimo l'uno, come le viti, come i tiranti, come tutto. Già lì ti dovrebbe far capire che quanto dura, non lo sai neanche tu, può darsi tutta la vita, può darsi dieci minuti, eccetera, eccetera, eccetera. E qui già stendiamo. È già follia. Ci vogliono dai 1200 ai 1600 euro di meccaniche per fare un set completo, diciamo, in maniera dignitosa. Quindi più di una prosuma. Solo le meccaniche. Fate i conti, andate bene a vedere. Comprate V2 Blacks, quelli buoni, cerchi quelli buoni, pelli, eccetera, eccetera. Va bene. Ma veniamo al sodo. Cioè, come puoi confrontare una panda con una Ferrari? Facciamolo più semplice. Il pandino ce la farà, ti porterà dove ti porta la Ferrari, no? Ma il motorino è un po' più così, si sa, e quindi va bene che una costi 5000, l'altra 200.000. Nelle batterie, no. Queste cose qua, no, vanno uguali. Non vanno uguali, è la medesima cosa. Cioè, tutte le batterie, fino alla prosuma, suonano tutte uguali. Cosa vuol dire? Fanno quello che trovano, il legno che trovano, il pioppo di qui, di un'altra pianta, di là, di un altro foglio, di un altro spessore. Assemblano e suonerà così. Tendono tutti a progettarle, perché suonino lì in basso. Ma che siano monotoniche. Non è vero che, se con un quartino di giro riesci ad aggiustare il suono in studio, hai le peculiarità del legno, ti vengono fuori. La costruzione di bassa lega o di grande produzione è portata perché sia fatta, appunto, perché ti sembra che suoni meglio. Ma non è vero, non suona meglio. Suona così. Suona, tutto ormai suona. Però hai delle particolarità, appunto, vuoi delle caratteristiche, con una pro tu le puoi avere. Puoi andare a cercarti il legno e le caratteristiche di quel legno lì e far sì che la costruzione perfetta te le faccia venire fuori. E tu, in registrazione, ma anche con le tue orecchie, che senza tanto adesso, ok, dico sempre non siamo in prossimità, ma lì la differenza si sente a orecchio nudo, puoi andare a cercare quelle cose lì. Con due quartini di qua, due quartini di là, puoi cambiare una cordatura, puoi cambiare l'intonazione del tuo fusto e sicuramente otterrai il risultato che vuoi ottenere. E là, no, difficilmente riuscirai ad ottenere quello che riesci ad ottenere con una pro rispetto a una batteria da 200-300 euro. Cioè, non le possiamo proprio paragonare. È chiaro che uno mi diceva, la Panda è più facile da usare. Certo, se hai in mano 200-300 cavalli come la Ferrari, forse è meglio che fai un corso, che impari ad utilizzarla e poi vedrai che te la godi molto di più, no? Penso che sia una cosa molto semplice da capire, però purtroppo avviene così un po' per tutto. Ho visto le meccaniche, i pedali, no? L'abbiamo già detto, abbiamo visto dei video sui pedali, mamma mia, difficilmente accettabili. Non riesco a capire come la gente non si accorga di questa cosa e questa cosa qui, noi batteristi anonimi, usiamo la scienza per diventare la fantascienza. Quindi l'abbiamo imparata e sappiamo che non è possibile che un entry level, anche con le pelli montate buone, suoni meglio, anche come una batteria così. Ci puoi andare vicino, puoi andare a rispecchiare con l'orecchio, cerca quella cordatura lì, cerca quella roba là, ma sono due strumenti totalmente diversi. Quindi mettiti il cuore in pace, non troverai una batteria di 300 euro che suona come una Yamaha Limited Edition, come una RV o come una DV. Non è possibile. E dovremmo anche smetterla di dire che le batterie costano care, perché noi, tutti i batteristi, no, ma perché se vuoi la persona, cavolo, devi spendere dei soldi. Se vuoi una pro e spendere dei soldi veri, siamo tra i musicisti fortunati, perché se vuoi una pro, una chitarra pro, se vuoi un pianoforte pro, se vuoi delle cose pro negli altri strumenti, spenderai ben di più. Questa è una cosa che magari ci dimentichiamo, dovremmo ricordarci tutti. Capito, no? Quindi, cosa ha in più una entry level da una pro? Che è più facile? È più facile da cordare, fa che giri, se si accorda, riesci a cordarla là, tun tun tun, dove ci piace, che suonano un po' tutte le nostre batterie. E quindi è molto più facile da utilizzare. In una pro dovrai tardarci del tempo, dovrai imparare bene a cordare, dovrai imparare tante cose sullo strumento, dovrai testare le pelli che ti piacciono di più e fare degli sforzi in più. Quindi spendere dei soldi in più e fare degli sforzi in più, ma perché vuoi ottenere realmente il suono che stai cercando. Bene, video corto, perché insomma i messaggi che mi sono arrivati mi fanno fare questo video e quindi lo faccio. Come sempre con amore se l'hai arrivato fino a qui, grazie. Metti via un soldino e comprati la batteria che desideri e vedrai che resterà quella lì per tutta la vita. Poi ne avrai altre, ma resterà quella lì per sempre. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.